Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 tra Pian del Voglio e Sasso Marconi verso Bologna, 6 km di coda del ripristino incidente, il traffico defluisce su due corsie e ripercussioni anche sulla direttissima con 5 km di coda dopo Badia. Per il traffico diretto verso nord si consiglia di seguire la A11 in direzione Pisa per poi mettersi sulla 12 verso la Spezia e per la A15 verso Parma. La viabilità cittadina a Firenze fino al 18 agosto per lavori in via Bolognese modifiche alla circolazione. A causa delle avverse condizioni meteo i collegamenti con le isole potrebbero subire variazioni e cancellazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!